Siamo con Giuseppe Profiti del Ciri Scienze della Vita e Tecnologie della Salute. Cosa avete presentato? Abbiamo vinto il premio Cluster per le Scienze della Vita perché abbiamo presentato due progetti, uno su rischi di caduta di persone anziane e l'altro invece su malattie neurodegenerative e quindi sistemi per poter eventualmente in futuro curare questo tipo di malattie.